La poesia sarà ben titolata di Invito a Torino. Ma l'ha scritta lei? Sì l'ha scritta lei, però è il dialetto piemontese. Allora, cara Gioanina, voi invitete a mia pa per fette visite la mia bella città. Prima mangiava due tagliari e poi l'uomo diceva il vino. Poi il Porto Verde non cambia già lì, più di un'altra volta in Torino. E mentre andremo a spazio e vedremo le meraviglie di questi miei palazzi, spazio già lungo la Leia, sapete cos'è la Leia? Non è il canale? Il viale, la Leia, una volta che si diceva la Leia, il viale. E spazio già lungo la Leia e sento in cura di Bumbi Cereia. E vedrai rimanemente persone e gloria che non fanno la nostra storia. La nostra curina ha il po' le sue spunde e le alpe che le circondano. E i bei ricordi del Parco del Valentino andrò a spiegare sempre in basino. E t'andrò a spiegare in via, perché come dì scurit e torino a casa mia.